Buongiorno a tutti ragazzi, qui islam dark e oggi siamo nel primo episodio nella nuova stagione con la Iaccio, carriera sempre su FIFA, come al solito un po' per sbaccare, allora, chiaramente bisognerà fare il mercato e decisamente bisogna lavorare dal punto di vista dell'uscita. La prima cosa che voglio fare a livello di mercato è andare a riscattare, prima che ritorni nella sua ex squadra, vetro fuori che si rompe, Alessandro Albanese, perché in prestito col diritto di riscatto fissa il diritto di riscatto pagando 3 e 3. Penso che mi chiederebbero di più e va benissimo per quel che ha fatto. Abbiamo un totale di, in realtà era 13 milioni più o meno, così scendiamo a 10, non abbiamo tanto budget perché siamo ancora una squadra piccolina. Andiamo a vedere a trattare lo stipendio settimanale con Albanese. Buono, si è bloccato. Allora, si è sbloccato FIFA, ho dovuto riavviare. Detto questo, Albanese ha avuto un ruolo importante, neanche a dirlo, quindi nella scorsa stagione ha avuto un ruolo importante alla fine, quindi gli darò quello che mi chiede. 11.500 e 100.000 di bonus in gaggio, vediamo se va bene. Va bene. Ha richiesto, però adesso andiamo a parlare del mercato in generale. Adesso è ufficiale Alessandro Albanese per, fino a fine contratto, con noi. E parecchio di contratto, aggiungerei. Allora, per quanto riguarda il mercato in uscita, andiamo a spiegare bene o male cosa vorrei fare. Abbiamo Cortet e Chabrol che verranno ceduti in un paio di giorni, in realtà. Quindi mi daranno un paio di milioncini in più su quello che è il calcio mercato. Ma, dal punto di vista della formazione titolare, bisogna andare a fare qualche cambio. In particolare, per me, bisogna alleggerire e ringiovanire un po' la rosa. E voi direte, hai fatto una squadra giovane? Non sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda, invece, i sostituti, vorrei mantenere i giovani. Quindi, nel senso, voglio ringiovanire la squadra, non ho aspettative di raggiungere già l'Europa. Per il semplice fatto che non abbiamo i fondi. Quindi, ad esempio, un portiere come Mamoepa, tenderei a volerlo tenere per farlo crescere in squadra. Nuri non lo voglio vendere io per cose mie, anche perché non vale assolutamente nulla, ma almeno un anno in Ligue 1 gliela voglio far fare come premio. Diallo può essere ceduto, questo diallo, non diallo, questo diallo può essere ceduto perché avrei delle alternative. Però, sostanzialmente, tutta questa situazione ci porta a pensare di dover trovare quantomeno un C.O.C. buono e con potenziale, uno o due C.C. con potenziale, perché, ad esempio, questo Marchetti è abbastanza pronto, ma ci sono giocatori più di prospettiva rispetto a lui. Per le ali non possiamo fare molto. In più, vorrei provare questo Reynaud, giocatore della primavera, salita e mandato in prestito al Cluj, che vorrei quantomeno provarlo. Questo blot, invece, può essere ceduto perché non ha il potenziale così alto, ha già il valore alto e può essere utilizzato per fare due soldini in più. In più, scusate il gioco di parole, Matuar e Ubissa possono essere ceduti a un'offerta anche molto bassa, perché occupano solo un posto in squadra e sarebbero lì a fare nulla. Tra l'altro, vi fa molto ridere perché, mentre si metteva a posto, ho visto Cotador ritiro al termine della stagione, quindi mi spiace, ma penso di tenerlo proprio come benchwarmer, quindi panchinaro completo, perché mi spiace, facciamogli fare l'anno in Ligue 1 e va bene. Invece Nuri, andando a vedere, è stato leggenda, mi fa un sacco ridere, perché il gol che ci ha permesso di essere premi e vincere la Ligue 2 l'ha fatto lui. Leggenda per la nostra squadra. L'ultimo anno in Ligue 1 se lo merita. Gli altri, invece, sono sul mercato. Allora, per quanto possa risultare ridicola questa mia potenziale scelta, un giocatore che vorrei andare a provare per potenziare un po' la squadra anche in profondità, ovvero trovare dalla panchina qualche sostituto di valore, pensavo a Juan Jesus. È svincolato, la Roma giustamente non l'ha rinnovato né nella vita reale né nel gioco, però si può provare a prendere come un panchinaro titolare che si alterna, comunque difensore centrale e terzino sinistro, con buone statistiche. È un buon giocatore, metterei anche una clausola recessoria non troppo bassa, non troppo alta, in modo tale da venderlo, magari per qualche milione. Dubito, però io proverei a mettercela, tanto per ricavare qualche soldo volendo, o vedere se è un giocatore decente oppure no, almeno su FIFA. Per quanto riguarda invece il COC, non sarà titolare, ma vorrei provare questo Ruiz Attil. È del Paris Saint-Germain, tendenzialmente, però qua è diventato svincolato, e quindi perché non andare a prendere questo marocchino Super Saiyan, perché nella foto ha i capelli neri, ma qui ha i capelli completamente biondi. In più, parlando di COC, un giocatore veramente che sarebbe il mio sogno bagnatissimo, titolare sarebbe Musabarro, ma penso non verrà ceduto nemmeno in prestito, però starebbe troppo bene in una squadra come la nostra, 77, e sarebbe il giocatore più forte della Rosa. Per quanto riguarda il centrocampo, volevo acquistare, magari provare a vedere Juninho Bakuna, perché non costa così tanto, starebbe nelle nostre casse e ci starebbe, poi con la faccia pure fatta bene. Io mi attrae la scelta Juninho Bakuna, lo avrei provato, o altrimenti c'è quello che avevo provato a prendere l'anno scorso in prestito, Nicolo Fagioli, che nella realtà non ha avuto assolutamente spazio con quello che è Pirlo, perché no venire una stagione da noi non in prestito o quantomeno acquistarla poco, perché non dovrebbe valere troppo. Non dovrebbe valere troppo, se si sta sui 4 milioni e mezzo, o prestito con diritto di riscatto con lui che gioca spesso, però potrebbe essere interessante in maniera tale da mantenerlo nella nostra squadra. Anche lui questo ciuffone biondo in realtà, questa chioma, un po' ha il principe quello di Shrek II, Prince Charming, però perché no, si può provare. Tra l'altro è pure mio compaesano di Piacenza, noi siamo qui, perché no. Prende un po' tanto di contratto, però. Altro innesto sarebbe interessante, Vranx, 18enne belga del Mechelen, che ragazzi indubbiamente in questa situazione è salito ed è equilibratissimo a statistiche, che è veramente interessante. Allora, senza ulteriore indugio andiamo a prendere il Super Saiyan marocchino, perché mi intriga il capello platinato. Ma me l'hai chiesto tu 2.900? Ma sei una brighella. Va bene, 3.200 e siamo a posto. Bravo Ruiz Attil. Sarà un sostituto non di lusso, ma un sostituto. A questo punto direi di provare anche Juan Jesus, tanto per in realtà, è un innesto in più, però voglio almeno provarlo. Ok, preso con 15.000 di contratto. Va bene, va bene. Cominciano a chiedere tanto perché siamo saliti di categoria. Va bene, va bene, va bene. Allora, direi che possiamo andare a simulare gli allenamenti, però vorrei in questa, almeno nei gironi di Coppa Estiva, vorrei giocarmela per usare i giovani. Vediamo un po'. Dalla primavera è cresciuto AT e diventa un 64, che in realtà è buono per un 16enne. Vediamo un po' di migliorarlo dove è migliorabile, e poi vediamo un po' se... Quanto meno lo possa anche già chiamare in realtà in prima squadra, magari da mandare in prestito, però è un 64 attacco 16 anni. Decisamente Solheim non ha tanto potenziale, ma lo si chiama e lo si manda in prestito, anche con diritto di riscatto. Non è un problema. Aumento budget di mercato. Ok, vabbè, sono già i soldi che avevamo visto. 13 milioni. Shabrolla ha lasciato la squadra. E lo stesso Corté. Bene così. Allora, andrò a giocare contro il Mainz. in Coppa Europea. Penso che la giocherò comunque. Metto a posto la squadra e vediamo un po' cosa può succedere. Va bene, 3-1. Finita. Allora, dopo aver messo Barreto, sono felice che abbia deciso di cedervi. Non mi sono mai trovato bene. E allora siamo d'accordo. Ragazzi, questa cosa mi spiace perché lui ha sempre stato importante nella squadra. Scemo lui. Offerta di trasferimento da parte dello Sheffield United per Christopher Gonzalez. Ragazzi, neanche 2-2? L'abbiamo preso sempre a zero. Proviamo un'ultima 2-2. Al massimo accettiamo. 2-2 va bene. Che poi mi arriverà a 1.800.000 probabilmente. Direi che possiamo andarci a prendere un altro centrocampista a questo punto tra i vari che avevo fatto presente. Allora, i giocatori, come avevo detto, sono abbastanza. In realtà c'è anche questo Johan Hov che vorrei provare per la questione abbiamo il Moro e l'Orso Polare. Giocatori norvegesi per l'Orso Polare. Non lo so, devo pensare un attimo perché in poll sono 4 i nomi. Sono Vranks, Bakuna, Hov e anche Fagioli. Fagioli non so se posso permetterlo perché potrebbe costare tanto. Vediamo. Tastiamo il terreno magari prima di... Mio Dio! Mio Dio, ragazzi, ho detto butto dentro! Juan Jesus più 1.300.000 per Vranks e l'hanno accettata. Ragazzi, questa è completamente a caso perché Juan Jesus... Io, dopo che mi ha chiesto il 15.000 ho detto subito porca troia questo qui mi sta svenando. Ragazzi, mi ha fatto veramente un sacco ridere. Vediamo anche per gli altri giocatori però sarebbe solo un milione e mezzo risparmiare un sacco. Risparmiare un sacco con questo acquisto. Sono anche stato zitto perché non pensavo fosse possibile me l'accettassero di primo oggetto. Allora, per Hov provo 2.03.000 non è tantissimo ma è accettabile. 2.06. 2.06.000 per Hov. Vediamo altri giocatori. Sarebbe 4.8 per Juninho Bakuna. Andiamo a vedere un altro giocatore. Me li tengo tutti lì. 50.000? Accettano. 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 Ragazzi, abbiamo 4 giocatori dei quali discutere. Allora, Juninho Bakuna è assolutamente proibitivo per quanto mi riguarda perché nel senso è 4.08.000 che è metà del nostro budget. Hov in realtà è economico. 2.06.000 è un 69.000 andrebbe anche bene per la crescita al futuro e ci starebbe per la digotomia della squadra. Io andrei su Vranks per l'estrema economia dell'estrema economia del suo acquisto e visto che anche lui è stato abbassato parecchio solo 3.45 perché no? Posso prendere entrambi. Con le cessioni che faremo dopo riusciremo a comprare altra gente. Proviamo a vedere se va bene perché gli stipendi non li so mai fare ma aspettavo che me lo dicesse lui. Va bene, va bene. è per un 18enne però pensavo me lo rifiutasse perché altri hanno cagato più il cazzo. Allora vuole parecchio di contratto ma già se l'è abbassato di 10.000 quindi gli rimuoverei il bonus in presenze perché le farà di sicuro. Va bene accetto per Fagioli costava tanto dal punto di vista del contratto. Va benissimo. Ragazzi Bakuna e Hov mi spiace scadranno scadranno le offerte ma possiamo andare avanti possiamo andare avanti perché qua abbiamo degli innesti importanti. Stiamo contro il Royal Anversa e me la andrò a giocare questa volta. Voglio vedere anche un attimo le maglie come sono perché l'ultima volta ho fatto un pelo fatica a dire che siamo bianchi contro rossi e farò esordire un po' di gente farò esordire un po' di gente poi andremo a giocare anche stanno giocando anche in difesa a 5 va bene dovremo anche far esordire quelli che sono i giovanotti che ho appena acquistato perché Vranx per quanto mi riguarda è titolare. La madonna che gol del Royal Van Verde ha fatto un gol incredibile va bene va bene 1-0 bella Baggi Baggi bel gol ok perfetto 19esimo e segna bella palla per Baggi che si gira bella diagonale ancora lui ragazzi che bomber ciao mamma mia che palla mangiati completamente 2-2 bella palla questo è quasi fuori gioco e l'idrissi e l'idrissi raso terra gol al 45esimo Baggatone fuori gioco e invece 4-2 perfetto gol di pure di Albanese porca puttana veramente di Allo quanto ci vuole la ragazzi ha beccato tutti i contrasti di Allo ma non i passaggi no gol al 90esimo giustamente se è rimandato fino al limite possibile va bene va bene 4-4 Gonzales venduto 1.6.000 nelle nostre casse va benissimo un tentativo un tentativo a vari giocatori vediamo un po' allora guardando i vari centrocampisti offensivi che ho messo diciamo che non so quanti potrebbero essere effettivamente raggiungibili con i nostri soldi però questo Lindstrom è un po' fuori mano Alcaraz pienamente dentro Bozgodan però ho già un po' di tedeschi in squadra non so un po' di dubbio Lucchegna fuori assolutamente dalla portata poi piccolino Musabarro è ancora in prestito al Bologna mi pare di aver capito quindi non si può fare niente Taboni sarebbe sul livello di Ruizatil è comunque molto economico ma potrebbe esplodere con noi Fabio Vieira peccato che non sia fatto bene di faccia però ragazzi costa tra 6 e 6 quindi probabilmente è in scadenza tra 6 e 6 gli offre un po' meno gli butti dentro un giocatore e va là anche questo Tresor per me si potrebbe cominceremmo ad avere un po' troppi giocatori del bel gioco vabbè proviamo a fare un'offerta per vari giocatori Tresor vediamo un po' 6 milioni e 2 20 clausola di rivendita comincia a essere un po' troppo alta termina trattativa 3 e 4 meno male è quella la cifra perché no 3 e 4 per va benissimo secondo me è un po' non è il giocatore che ci cambia la squadra però non so se riesco a farmi capire 5 e 8 Fabio Coste 5 e 8 ma ragazzi forse ho offerto anche troppo qua io ci ricado ricado nel banale potenzialmente però maglia meo e mi chiama ragazzi C.O.C. forse è perfetto per la nostra squadra bonus ingaggio vediamo ma com'è possibile si rifà quando si può è lì che ci aspetta Fabio Vera è lì che ci aspetta a quelle cifre sapevo che c'era del marcio in Danimarca ma è lì che mi aspetta va bene andiamo ad affrontare il GENT scusato sbagliato però prevedo pizza e fichi tarallucce e vino partita del cuore un po' come volete simulazione veloce basta così ci togliamo la coppa estiva 3-2-1 mi ammazza i giocatori ma finisce 1-1 con gol di e l'idrissi ci sono sti cazzo di allenamenti in mezzo tra l'altro io non lo stavo ancora facendo stupidamente ma andiamo a vedere dove mandare i nostri osservatori ne ho due di buon livello decisamente decidiamo un po' cosa fare come avevo già detto facciamo seguire dei giocatori avevamo fatto la Norvegia l'ultima volta perché no rimandiamolo in Norvegia Norvegia rimandiamolo in Norvegia vediamo se può trovare qualcosa di interessante per 6 mesi perché no andiamo in Cile andiamo in Cile non l'ho mai fatto vediamo se in Cile posso trovare il nuovo Nino Maraviglia Fabio Vieira secondo tentativo contatta per acquistare 5-5 anche un'offerta più bassa adesso per cortesia bello de casa bello de qui bello de là vediamo di affrontare il tuo contratto perché a quanto pare ne vuoi un po' di più di 7100 vuoi rialzarti il contratto che però è realistico viene a giocare in una squadra più piccola del porto meno importante sono tantissimi soldi eh sono tantissimi soldi oh grazie grazie che giocatore ragazzi andiamo un attimo ad ammirare questo bellissimo uomo guarda guarda come sta bene una guarda che squadra di 70 si è riuscita a costruire allora mentre andavo avanti mi è arrivata questa offertona da 10 milioni e 800 mila per Yusuf Baggi che ragazzi ha 19 anni è un 73 e potenzialmente può valere di più io non sarei ancora per cederlo perché dopo solo un anno fare uno sfavore solo a lui a mandarlo in un campionato del livello che non ha ancora giocato sarebbe un affronta a lui però quantomeno lo rifiuto offerta per il trasferimento di Marchetti tra l'altro da Royal Anversa perché no è un giocatore di cui non vado estremamente pazzo non vogliono andare più di un tot ho già capito proviamo due e mezzo mamma mia che tirchioni che siete eh e negozia facciamo due come ho fatto per per Christopher Gonzales ok ho alzato di poco e va bene guarda che siete dei bastardi ok Marchetti ceduto in prestito offerta anche di prestito per Abraham Solheim aspetta facciamo che delego faccio prestito e basta perché farlo giocare sì ma non vorrei cederlo non ha tanto potenziale ma se lo riesco a vendere quando ha un po' più di potenziale perché ha giocato secondo me può andar bene allora offerta per allenare la Scozia squadra sinceramente molto interessante ma rifiuto l'offerta con delicatezza però c'è offerta di trasferimento di Indy Bonen più 280.000 per Michael Barreto guarda si offre da solo un milioncino e mezzo piuttosto l'abbassate se non lo volete e lo vogliono ha un milione e mezzo perfetto poteva anche chiedere leggermente di più va bene però vendiamo un giocatore che comunque non mi ha fatto mai impazzire ha fatto gol importanti c'è da dirlo però 30 anni 70 non crescerebbe più di così e va bene allora siamo arrivati a quelle che sono le grafiche della Ligan perché la Ligan ha le grafiche ufficiali e sono un pugno nell'occhio devo dire perché uberizza è bello utile è sempre interessante volevo andare a provare almeno a giocare una partitina e dovrebbe appropinquarsi la partita contro il Tolosa almeno giocare la prima almeno giocare la prima col mercato aperto poi andiamo non è un problema il Tolosa che è arrivato secondo in campionato sarebbe abbastanza interessante per me no ricominciare da dove abbiamo finito con la prima partita sempre no sarebbe per chiudere a parte le cagate andiamo avanti cerco di mantenere la squadra e scomparirò perché la mia cam non ce la fa più e anche il faretto che ho puntato negli occhi mi sta uccidendo piano piano allora Barreto venduto e un milione e uno nelle nostre casse e poi Achille Blot questo buono buono anche quest'offerta per un difensorino centrale che non userei mai diciottenne vale più o meno questa cifra andiamo a trattare rinegozio offerta cartellino faccio un milione e duicento cinquantamila esageriamo un po' però questo ve ne vale di più tra un po' quindi sono quei trecentomila in più del suo cartellino che fanno sempre comodo dai e accettiamo anche l'offerta dello Chaleroa non l'avevo ancora fatta però accettiamo il prestito di un anno per Solheim allora Elidrissi mi chiede di giocare e allora Elidrissi perché no partirei titolare dai ci sei dall'inizio 71 direi che puoi andare mi fido di Elidrissi blot venduto però nel frattempo tra l'altro guardando i vari giocatori svincolati c'è questo Javen McLeary McClary che è un 65 dal valore di un milione e quattro svincolato perché no ragazzi potrei firmarlo completamente a gratis giocatori in più da tenere nella mescolanza varia perché no da un niente magari lo possiamo ottenere perché no allora provo 3200 e 5000 di bonus ingaggio tanto per così si mette anche si compra un appartamento sta lì no giamaicano con quel capello biondo però volendo perché no assomiglia a tantissimi altri giocatori della rosa però mi piace perché la nostra rosa sta cominciando a diventare abbastanza non esotica ma con giocatori che non ti aspetti tutti assieme allora conferenza stampa pre-tolosa no importante credo che la sua squadra riuscirà a salvarsi questa stagione ragazzi dobbiamo fare abbastanza punti ma per me possiamo fare qualcosina di più siamo qui alla prima partita di una Ligan conquistata dopo una vittoria all'ultimo minuto proprio contro la squadra a tolosa oggi sicuramente vogliosa di rivincita dopo quello che è stato il sorpasso iniziale c'è un ex di lusso da parte nostra detto Yanis Antist con un Elidrissi indemoniato ragazzi si può schippare gli inni abbiamo una squadra quasi completamente rivoluzionata in alcuni ambiti specialmente il centrocampo Fabio Viera da tenere d'occhio nazionalità portoghese la nostra squadra è piuttosto variopinta tra giocatori che vengono dal Belgio e altri detto questo ce la giochiamo contro la seconda classificata dell'anno scorso di Ligue 2 contro la prima no ha mancato ragazzi ha mancato l'intervento il mio giocatore ma com'è possibile sto gol come ha fatto a mancarlo guarda difensore centrale questo è Ward ma stiamo scherzando perché il gioco fa così porca puttana uno vuole fare anche le cose magari fatte bene nei limiti delle sue possibilità antist guarda come si è girato forse allungato troppo gol gol di Lassi che di nuovo segna la prima giornata no questo è l'idrissi che mi ha chiesto di giocare ma siamo pazzi bravo esulta attenzione ok va bene attenzione Lassi al limite al limite della porta prova a darla dentro ragazzi qua ha tirato un pugno ad antist in testa però calcio da neanche calcio d'angolo bene bella palla per antist di albanese antist antist no dai no dai com'è possibile che è che ha preso l'effetto da bastarda sta palla parata parata di Okoye bravissimo non andargli in conto no gol ragazzi il Tolosa ha fatto 4 azioni va bene gol del Tolosa complimenti dai devo far fallo ragazzi quanto tempo dovete stare in aria va bene terzo gol ragazzi 3 a 1 come l'anno scorso era finita 3 a 1 all'andata di inizio campionato però non ho potuto fare niente questo è un po' brutto da parte del gioco fallo no va bene partita finita 3 a 1 è il Tolosa arca miseria che nervoso fanno arrabbiare queste cose mi fa arrabbiare non riuscire e avere la possibilità di giocare va bene 3 a 1 sconfitta come l'anno scorso speriamo porti bene come l'anno scorso a questo punto questo chi è il fratello il portiere fratello di De Bruyne allora prestito con diritto di riscatto per Mac Cleary giamaicano preso col valore abbastanza buono 19 anni 65 perché no un prestito non con diritto di riscatto perché se te lo mando in prestito te lo faccio giocare e me lo rimandi indietro perché volendo posso far cassa sono molto avido però prestito un anno a Racing Club e può andar bene lo delego così dovrebbe accettarlo giocatore preso dal nulla che però ci potrebbe fruttare in futuro qualche soldino Monaco ragazzi questa è una partita prova del 9 anche offerta per il prestito con diritto di riscatto dell'indipendiente niente i giamaicani piacciono i giamaicani piacciono alle varie squadre così ho rifiutato i due anni perché due anni è troppo però delego per prestito di un anno ok non col Racing ma con l'indipendiente vediamo se si può fare qualcosa eccoci qui partita contro la S Monaco io ho discreto timore reverenziale quanto meno ma non dobbiamo farcela troppo sotto e giocare il calcio che meglio conosciamo perché qua altrimenti si va dove non è piacevole stare mamma mia ho coglie paratone e giustamente non la prende mai su un cross al tre allora va bene va bene ma non ne para più uno il mio portiere o sto sognando va bene che è Ben Yedder ragazzi stanno giocando con Ben Yedder Voland Gelsor Martins io sto giocando con Antista dopo un anno e Yusuf Baggi però va bene che sofferenza scavetto precisissimo e niente qua il gol 3-0 ragazzi che bellezza comunque oggi il gioco si è svegliato e ha deciso che io non dovevo perché ogni partita è così anche quando avevo giocato la coppa estiva c'erano i momenti in cui potevo segnare i momenti in cui non potevo va bene ragazzi 4-0 vediamo quanto devo subire perché io non ho mai visto una squadra con giocatori più buggati tutti assieme il Monaco chi è Diop Sovufiane Diop ragazzi di cosa stiamo parlando attenzione Viera gol gol primo gol in campionato si sblocca il nostro talentissimo portoghese bravo 4-1 riduciamo le distanze abbastanza ridere sembra difficile che ci possano essere sorprese nel finale buona l'intuizione l'ho detto o peggio va bene va bene 5-1 ok me lo aspettavo andate a cagare tutti va bene 5-1 onesto Matizen questo sembra essere interessante che ruolo sei allora questo Matizen è un 59 vediamo un po' le statistiche per il piano di crescita ma non lo vedo così interessante nel breve termine quanto meno allora intanto il gradimento di me come allenatore è salita altissimo dopo che ho perso fa abbastanza strano però ci lasciamo purtroppo con una sconfitta piuttosto cucente sarà complesso guadagnare la salvezza i giocatori devono crescere metterò a posto i piani di crescita ora e penserò anche a come gestire la questione esterni e potenziali sostituti nel caso vabbè ragazzi io ringrazio tutti quelli che hanno seguito ci vediamo al prossimo video che è più campionato oriented che fine calcio mercato alla prossima ciao ciao grazie di avermi